Nel mondo dell'animazione giapponese ci sono diverse croci, e questo è innegabile. Il sistema su cui si basa ogni singolo studio nasce da basi traballanti che in 60 anni di serialità non sono mai state rinforzate. È naturale che quasi ogni produzione sia viziata da problemi economici e temporali, così come che debba appoggiarsi ad altri media affinché ogni stagione abbia almeno 50 serie televisive. E nel mondo del fumetto la situazione non è poi tanto diversa, vista l'impostazione seriale delle riviste con le conseguenti limitazioni artistiche che ne derivano. Uno dei problemi che accomunano entrambi i settori è lo sfruttamento di alcuni brand di successo da parte delle aziende che ne detengono le proprietà. È sempre stato comune vedere un titolo noto venire spremuto fino all'ultima goccia, ma con l'assenza di nuove proprietà intellettuali particolarmente forti è diventato sempre più necessario espandere l'influenza di quelle già esistenti o di quelle con potenziale, tanto sullo stesso media quanto che su altri. Dimos Reier ha successo e quindi giù di film, gioco per console, gaccia, romanzi, merchandise, spa 5, salviette per il naso, cartigienica e prodotte per la casa a forma di nezuko. Non c'è più un limite, o come vedremo, forse non c'è mai stato. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Ami. Io sono Italo e oggi parliamo un po' dello sfruttamento intensivo che caratterizza da diversi anni il modo dell'animazione del fumetto giapponese. Questo video mi è stato commissionato su Patreon da Tommaso e colgo l'occasione per ricordare a tutti i Patreon di inviarmi le proprie richieste visto che vorrei chiuderlo e avevo provato a scriverlo sia su Patreon sia su Instagram, l'avevo detto in live, ho provato insomma da un po' di parti, ma mi servono le richieste di chi aveva già fatto la sottoscrizione in questi mesi di chi è ancora Patreon o di chi comunque non aveva ottenuto l'estrazione. Mi trovate tranquillamente su Instagram o mandatemi lì le richieste oppure su Facebook, insomma dovunque io sia reperibile. Detto questo vi ricordo che mi trovate anche su Twitch, Anime Tea Time, ogni giorno della settimana tranne il sabato assieme al cattivissimo Paolo e al buonissimo Giaccio. In descrizione trovate tutti i link utili per seguirmi e noi possiamo partire, bando alle ciance, giovani. Il mio brand preferito in assoluto è quello di Gundam, che per puro caso è anche l'esempio perfetto di un'idea di successo trasformata col tempo in quello che voleva l'industria. La storica prima serie, Kido Senshi Gundam, narrava di un gruppo di giovani costretto a vivere una guerra sanguinosa, provando a rompere il concetto di serie animata come prodotto per bambini con una storia adulta costruita sulle basi dello sci-fi giapponese ed americano. Il mecha, visto prima come una divinità invincibile, diventava ora una vera e propria arma, usata dagli eserciti di entrambi gli schieramenti per tentare di vincere una guerra tra umani. Nella prima messa in onda, il contenuto della serie venne bellamente ignorato dal grande pubblico, che lo premiò con ascolti bassissimi e un numero di episodi tagliato da 50 a 39. A salvare il titolo dall'oblio e a determinarne il successo, sono stati i modellini prodotti da Bandai, prima moda silenziosa e poi il vero e proprio traino dell'intero franchise. I Gunpla sono stati strumentali alla formazione di un vero e proprio pubblico correlato agli anime, un embrione di quelli che oggi identifichiamo come otaku. E più di ogni altro elemento hanno portato Sunrise a finanziare negli anni un numero enorme di sequel, spin-off e serie indipendenti, che oggi danno forma ad uno dei franchise più celebre e renumerativi dell'animazione giapponese. Sono tutti titoli di altissimo livello? Assolutamente no! Alcune, come Sid00, sono abbastanza mediocri, altre, come Age o ZZ, semplicemente brutte. Ed è una conseguenza dell'essere parte di un sistema in cui il nome conta tantissimo. Rispetto a lanciarsi alla cieca con un titolo nuovo di cui non puoi conoscere il futuro, rifarsi ad un brand conosciuto permette dei risultati quanto meno accettabili. E piuttosto che puntare al sold out, a volte è meglio cercare anche solo di rientrare nelle spese. C'è però da domandarsi quanto il pubblico sia ancora incline ad accettare di vedere l'ennesima riproposizione di una serie che guardava dieci anni fa, visto che oggi la gente sembra sempre indignarsi davanti ad operazioni simili. Per quel che mi riguarda, è solo un atteggiamento di facciata. Le cose non sono cambiate. La massa continua a lanciarsi a capofitto nella visione o nella lettura dell'ultimo titolo di un certo brand e a lamentarsi di come questo mondo non abbia più idee. paradossalmente però, un simile atteggiamento allontana ancora di più la possibilità che un titolo nuovo faccia parlare di sé. Non perché la cattiva pubblicità è comunque pubblicità e quindi parlare male di quelle cose oscura le altre. Il motivo è che il pubblico quelle serie le premia anche inconsapevolmente. Se Boruto non ti interessa perché trovi degradante l'idea di un sequel di Naruto, perché guardarlo? Perché dargli il tempo che si potrebbe dedicare ad una serie magari meno conosciuta, ma comunque più interessante? Per entrambe le industrie, questi sono segnali che spingono ad aumentare le opportunità di proporre spin-off, sequel e remake. So che sembra assurdo quella quantità di ramentali che si sentono al riguardo ogni giorno, ma a causa delle dimensioni raggiunte da anime e manga, il pubblico oggi dovrebbe essere molto più consapevole di sé stesso. Prendiamo il caso di Shonen Jump. Chiunque sia cresciuto a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, la conosce come la rivista dei Big Three, dove i manga non finiscono mai, tipo i rotoloni di Veggina, ma in realtà la durata media di una sua pubblicazione non è così lunga come crediamo. Manga come Dois Hall o Tokyo Wonder Boys sono durati meno di un gatto intangenziale, cancellati dopo appena un volume perché il grosso del pubblico comprava la rivista per leggere i titoli più famosi e a cui le due serie neanche ci arrivava. Potrà sembrare strano a chi segue One Piece e si sente dire da dieci anni che mancano cinque anni, ma la normalità di Jump è fatta di tante cancellazioni. Il più recente Build King di Mitsutoshi Shimabukuro, che comunque è l'autore editorico, quindi ha già un nome all'interno della rivista, è stato cancellato dopo tre volumi. E' un meccanismo che non risparmia nessuno, e per quanto io lo considero un sistema antiquato, funziona. Il grosso del pubblico viene tirato dentro questo mondo da storie di successo, e spesso fatica a maturare un interesse che vada oltre quei titoli e riguardi direttamente fumetto ed animazione. Per questo quelle serie durano più delle altre. Per questo quando Dimo Slayer finisce ci sono novel, spin-off, anime e videogiochi ad alimentare ancora il brand. Secondo una logica artistica, queste sarebbero pratiche da evitare. Penso però che sappiate tutti in quale mondo viviamo, e fino a prova contraria, gli unicorni non esistono. La logica che seguono editori e grandi aziende è quella commerciale, quella utile a permettere che il via vai di denaro resti costante anche al di là di una crescita rallentata. Ed è dunque inevitabile che si marci sui soggetti già conosciuti, di cui tutti vogliono ancora sentir parlare anche se poi si dicono contrari. Dal punto di vista di un lettore, e soprattutto se affezionato, vedere una serie interessante allungarsi fino all'infinito, o venire riesumata con storie collaterali, non fa certo piacere. Che sia una questione di ricordi o di semplice apprezzamento della materia originale, è molto comune vedere le processioni sul web quando si tocca qualche opera del passato. Il tutto però è anche una conseguenza dei moderni metodi di consumo dell'audiovisivo. Con una grande richiesta di titoli nuovi, che poi non hanno il successo sperato, è naturale che le aziende cerchino di riprendere quei nomi a cui il pubblico è ancora affezionato. Bello o brutto, tutti ne parleranno, spesso per lamentarsi del fatto che esista. Ma permettere che questo avvenga è quella stessa lamentela, nata dal dare attenzione a quella cosa piuttosto che a qualcos'altro. Per le aziende giapponesi ovviamente il pubblico esterno è ancora poco rilevante, ma non pensate che il pubblico nipponico abbia tendenze diverse. Ad un nuovo film d'animazione di un regista molto promettente, preferiscono di gran lunga il quattrocentesimo film su Doraemon, la sicurezza che batte il fascino dell'ignoto. Che sia giusto o sbagliato, poco importa. Il mondo degli anime ha un'impronta commerciale, che lo si voglia considerare o meno. Gli addetti ai lavori fanno quel che devono per mandare avanti la baracca, seguendo i segnali del pubblico per impostare poi la giusta direzione. Dovrebbe essere il mercato a dettare le tendenze? Sì, ed infatti il pubblico viene spesso manipolato a seguivle. Io non so chi volesse davvero la director's cut di quattro ore di un film brutto diretto da un regista piuttosto scarso, ma l'abbiamo avuta, e c'è chi ne ha gioito. Il punto è che per quanto sia positivo che non sia il pubblico a dettare o legge su ciò che si deve fare, il mercato non punta all'evoluzione di fumetto e all'animazione in quanto forme artistiche. Il suo scopo è sopravvivere. Al pubblico tocca un ruolo da vittima e carnefice al tempo stesso, disinteressato come alle novità che non gli vengono spammate ossessivamente. Sicuramente pensate che io ho sentito di persone che volevano la seconda stagione di Erased o di Parasite, che sono anime conclusi, e un cane che si morde la coda da decenni senza vedere una via d'uscita all'orizzonte. La risposta potrebbe essere di direzionare l'interesse da ciò che interessa già a quel che potrebbe interessare, ma cambiare la mentalità delle persone dal giorno alla notte non è una cosa fattibile. Il tempo personale è importante tanto da estillare la ferma convinzione che non sia giusto perderlo a guardare cose di cui si hanno poche opinioni o che non fanno scattare la scintilla. Mi sembra quindi superfluo andare a distribuire delle colpe, identificare i creatori di questo circolo infernale per condannarli fino alla fine e pontificare su giusto e sbagliato. È una situazione ovvia per il sistema in cui viviamo, ovvia per il modo in cui fioriamo dell'intrattenimento. C'è anche da dire che però la viviamo oggi. Nel momento in cui le piattaforme streaming e il binge watching sono entrati nella vita quotidiana di una fascia d'età, è un periodo di costante evoluzione da cui ci si può aspettare di tutto. La community anime sta infatti crescendo con rapidità e con essa il numero di persone che si appassionano all'animazione giapponese. Potrebbe essere una questione di tempo come anche no, ma sarà interessante poterne essere partecipi. Ok, è stato un discorso lungo, anche forse un po' complesso, ma spero che vi sia piaciuto e che sia piaciuto soprattutto a Tommaso, che vi abbia colto quello che appunto lui mi aveva chiesto e che ci abbia raggiunto su in maniera quantomeno interessante. Ho già spiegato abbastanza, quindi non ho altro da aggiungere. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Sto cercando di immagazzinare un po' di video, così da avere un'estate piena di contenuti. E vediamo se ci riesco. Nel frattempo, see you, Space Cowboys!